In questa prima parte dell'anno abbiamo osservato una dinamica dell'economia reale molto positiva mentre i mercati finanziari invece hanno manifestato una fase di correzione non solo sui mercati obbligazionari ma anche sui mercati azionari. Come si spiega questa apparente divergenza di andamenti? Certamente la crescita economica prosegue su dinamiche che in parte erano già ampiamente attese dai mercati anche se le ultime informazioni almeno nell'ambito delle nostre previsioni ci hanno portato a rivedere a rialzo le previsioni di crescita dell'economia mondiale e in particolare quella dei paesi avanzati Stati Uniti per la riforma fiscale e area UEM per una migliore dinamica del commercio internazionale. Proprio quest'ultimo aspetto però in funzione anche delle politiche protezionistiche di Trump delle possibili guerre commerciali che possono svilupparsi con la Cina sono uno dei motivi che hanno determinato una fase di correzione dei mercati soprattutto per quanto riguarda i mercati azionari che al momento possiamo ritenere fisiologica quindi nell'ambito di normali andamenti che portano la volatilità verso livelli più coerenti con quelli storici però non c'è dubbio che dobbiamo prepararci a vivere un anno in cui queste fasi di correzione di maggiore turbolenza possono anche ripetersi per cui nell'ambito delle politiche di investimento e quindi delle linee guida di asset allocation manteremo una relativa cautela tenendo conto che i mercati obbligazionari continueranno a proporre una crescita dei rendimenti soprattutto sul segmento obbligazionario e il segmento corporate ormai abbastanza tirato le attività maggiore contenuto di rischio restano sempre preferibili come classe di attività nell'ambito della propria asset allocation ma con una maggiore selettività e maggiori attenzioni al controllo del rischio grazie a tutti